Si avvicinano le feste e noi vogliamo salutare soprattutto gli anziani che ci seguono e parlare anche di loro, sì perché parleremo delle RSA e quindi l'argomento interessa soprattutto chi è ospitato in una delle tante strutture di questo genere che ci sono nella nostra regione. Dalla Commissione Sanità e Politiche Sociali si chiede adesso che la Giunta destine all'RSA la quota avanzata del contributo anno che, lo ricordiamo, è di circa 200 milioni. La Toscana decide di non indicizzare sui valori attuali dell'inflazione, molto più alti del solito i vecchi vitalizi assegnati ai consiglieri in carica fino al 2015. La discussione su un provvedimento che potrebbe dar luogo al ricorso è molto lunga e dopo il primo voto in Commissione tiene impegnato tutto il Consiglio per ore con alcune sospensioni dei lavori. La riduzione alla fine c'è e consentirà un risparmio nel 2023 di oltre 600 mila euro. Molti atti della Commissione arrivano adesso all'esame dell'Aula e così si parla soprattutto del caro energia per i comuni di montagna che evidentemente spendono di più, soprattutto d'inverno. La scienziata Elena Cattaneo riceve il premio Pianeta Galileo che si lega alla manifestazione ormai consolidata per la promozione della scienza. In Toscana lei, che è stata nominata senatrice a vita, si complimenta per il protagonismo dei giovani. Quelli del Parlamento degli studenti li incontra direttamente qui. Dopo le audizioni del 24 novembre, nella sua riunione di qualche giorno dopo, tutta la terza commissione del Consiglio regionale aveva detto sì ad una richiesta specifica alla Giunta che la quota avanzata e non assegnata del contributo annuo previsto dalla Regione 206 milioni sia destinata a coprire le difficoltà, leggiamo, oggettive delle RSA. Adesso questo documento arriva alla discussione di tutti i consiglieri insieme ad altre istanze come quella di ripensare tutto il modello organizzativo, di favorire la nascita di comunità energetiche rinnovabili, di puntare a nuovi percorsi di formazione. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari e quindi per noi chiediamo alla Giunta di prevedere un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Sulla necessità intanto di sbloccare queste risorse non ci sono distinzioni tra i gruppi politici, si chiedono interventi sia allo Stato che alla Regione. La Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per l'RSA. Alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo di 27 milioni, 30 milioni all'incirca e questo è ciò che le risidenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni. Da questo siamo ripartiti. Mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da Covid, hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso. Però dalle opposizioni emergono anche alcune critiche alle politiche della Giunta per le residenze per gli anziani. Il documento che è uscito dalla terza Commissione è un documento ben fatto, è un documento che chiede giustamente, è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al Governo, quindi chiede giustamente un impegno del Governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA. Il Governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi, che il Governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici. Non ha inserito l'RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare, quindi è giusto chiedere che vengano inseriti, come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana ripede la quota sanitaria. Perché è troppo facile non far niente per 15 anni, ma aspettare che le RSA giustamente, sottolineo giustamente, ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire. La sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata. Già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno dell'RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire, deve intervenire organizzativamente innanzitutto, perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte, in buona parte, è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma, la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo di carattere economico ma anche di carattere organizzativo. La maggioranza che chiede interventi sia al Governo che alla Giunta sottolinea tuttavia che le politiche attuate in Toscana finora sono importanti ed efficaci. Serve rispetto di un ruolo straordinario che fanno le RSA nei territori. Noi siamo stati come Italia Viva i primi a depostare un atto a sostegno delle RSA, i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze, chiediamo di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo, ma chiediamo di fare di più anche in termini economici. Una risoluzione di buonsenso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti. Non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto. È evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. I vitalizi per i consigliari regionali non ci sono più dal 2015, ma per i consigliari delle vecchie legislature esistono sempre e ogni anno per legge vengono aumentati in base all'inflazione, un po' come accade alle pensioni d'anzianità. Solo che stavolta il Consiglio regionale ha voluto ridurre le dimensioni di questo adeguamento che avrebbe assunto dimensioni notevoli. L'inflazione infatti sta galoppando e destinare agli interventi sociali e di altro genere i soldi risparmiati, mica pochi, oltre 600 mila euro, nel solo 2023. L'iniziativa è partita dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea. Noi siamo la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il Governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie, vivono, faticano ancora più del solito il calo energia, l'aumento dell'inflazione, abbiamo voluto dare un messaggio, un messaggio forte, chiaro, che la regione toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione. E poi il Presidente lancia anche un appello ai 184 beneficiari adesso del vitalizio. Io mi auguro che proprio sulla linea indicata dal Presidente Mattarella ci sia la possibilità che loro facciano un gesto forte e che decidano da soli di non richiedere neanche quell'adeguamento che noi abbiamo dovuto fare proprio per fare una legge che fosse, secondo noi almeno, non impugnabile. Insomma, questo è un appello che chiedo a loro a nome di tutti i colleghi consiglieri. In pratica l'aumento dei vitalizi c'è, ci sarà, ma in misura ridotta rispetto al valore fissato del 7% e all'indice attuale che sfiora addirittura il 12%. Si andrà dall'1% per i vitalizi sopra i 3.000 euro al 3% per quelli fino a 1.500 euro. Una decisione coraggiosa condivisa da tutti i gruppi che comunque ora espone al ricorso da parte di alcuni beneficiari. Una decisione che in ogni caso afflutterà un risparmio notevole. La spesa scenderà da oltre 700.000 euro a meno di 100.000 in un anno. C'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat. Intanto il coraggio di togliere 600.000 euro che saranno destinate invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo. Credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato. Quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia. Questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini, sia questa legislatura che quella precedente, male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. Troviamo sconveniente il privilegio del vitalizio, lo troviamo una cosa disarmante chiedere l'aggiornamento secondo i dati Istat. Vengano aggiornati all'indice Istat le pensioni, gli stipendi, non è giusto che vengano aggiornati anche i privilegi, quindi sono contento che il Consiglio regionale della Toscana oggi intervenga per ridurre un privilegio, che è il vitalizio, e per evitare che quel privilegio venga aumentato con la rivalutazione Istat. È giusto in questi tempi intervenire in questo modo per, ripeto, ridurre un privilegio degli ex politici. Tra parentesi, per fortuna, sono contento che l'attuale Consiglio regionale non riscuota il vitalizio, mi sembra una cosa più che giusta e per lo stesso motivo ritengo giusto non aggiornarlo. Qualche distingue è emerso dal Movimento 5 Stelle che ha sottolineato come alla fine il contenzioso potrebbe costare più del risparmio effettivo. Di fatto sappiamo bene che in qualche modo basterà che ci sia un'impugnazione, un ricorso, un'impugnazione e probabilmente, molto probabilmente, comunque sia ci porterà la legge per quanto fatta col migliore degli intenti e cercando legislativamente di andare in punta di diritto per trovare la soluzione migliore, probabilmente esporrà ugualmente il Consiglio regionale a dover sborsare 700 mila euro quest'anno e forse anche i prossimi. E quindi dov'è l'errore capitale che è stato fatto? E che speravamo che magari in questi mesi ci potesse essere tempo di non intervenire in conferenza Stato-Regioni. Compatte le altre forze politiche che tuttavia hanno limato a lungo la legge nel tentativo di trovare la soluzione, al loro giudizio, più equa e meno esposta appunto al ricorso. Un'operazione che si è svolta prima che in aula, direttamente in commissione. Certamente la scelta che è stata fatta potrebbe anche ingenerare dei rischi da parte di coloro che avrebbero diritto ad un vitalizio rivalutato con gli indici Istat. Politicamente il Consiglio regionale e questa maggioranza si sono assunti la responsabilità di una scelta che va invece verso la riduzione di questa indicizzazione. Devo dire che da un punto di vista giuridico-normativo abbiamo avuto in sede soprattutto di lavori di commissione il conforto da parte di tutti gli uffici che l'operazione che è stata posta in essere è perfettamente legittima e non ha quindi profili di contrasto con la normativa nazionale. Forti di questo e speriamo di non avere conseguenze negative e chiaramente il mio vuole essere anche un appello a tutti coloro che godono di questi vitalizi a non calcare la mano su questo tema perché credo che i cittadini toscani in questo momento non capirebbero un atteggiamento di tipo diverso. Ecco cosa ci ha detto il consigliere Galli della Lega che ha proposto un'aggiunta in questa discussione. Una cosa in più, sentiamola. Il mio ordine del giorno, intanto ringrazio tutti i capogruppo perché lo hanno controfirmato permettendomi appunto di poterlo discutere in aula è quello di andare nei prossimi semestri di dare mandato al Presidente Gianni nell'accordo Stato-Regioni di portare avanti proprio questa nostra iniziativa e cioè quello di togliere definitivamente non il vitalizio perché quello non possiamo ma la rivalutazione Istat. Al tempo stesso nel momento in cui dovesse esserci parere favorevole andremo a rivisitare anche la legge regionale del 2019. Questo visto che la regione toscana spesso e volentieri è stata promotrice di grandi iniziative nazionali. Ci auguriamo che questo il nostro Presidente lo porti veramente a casa. Vivere e lavorare in montagna all'inverno oggi costa molto di più perché i prezzi dell'energia sono schizzati in alto. Anche i comuni montani spendono di più, almeno il doppio. E così dalla Commissione prima, dal Consiglio poi che vota maggioranza parte una richiesta forte al Governo. Chiediamo innanzitutto al Governo di intervenire rispetto ad esempio ai costi dell'energia dei comuni differenziando in base alle fasce altimetriche. Allo stesso tempo un'altra questione che ci è stata posta è che la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche sacrosanta però è stata applicata anche a 1200 comuni italiani per quanto riguarda gli impianti per energia rinnovabile. Ma i comuni non sono aziende private ma sono enti pubblici e utilizzano questa energia anche per sostenere le proprie attività. Più in generale la nostra mozione chiede al Governo un impegno straordinario per quanto riguarda più in generale il tema del sostegno al comparto montano e neve di fronte ai costi energetici che saranno supplementari nella prossima fase. La consigliera Noferi del Movimento 5 Stelle vota contro si astiene il consigliere di Fratelli d'Italia Petrucce ex sindaco di Abetone Cutigliano che non risparmia critiche alle politiche per la montagna della Giunta. Noi chiediamo intanto alla regione di avere attenzione anche nei confronti delle aree più marginali di questa meravigliosa terra che sono le montagne, le isole, le aree rurali dove vivono sì magari meno persone ma hanno bisogno della stessa attenzione. Noi siamo contrari a regioni di serie A e territori di serie B. Anche chi non nasce in centro a Firenze o a Pisa è giusto che abbia gli stessi servizi. È giusto che ci sia un'attenzione particolare in questo momento per le stazioni invernali, penso alla betone e alla miata in particolar modo perché le imprese che gestiscono quelle stazioni che sono delle infrastrutture, le imprese degli impianti di salita sono imprese energivore. Pensiamo semplicemente all'attività della neve artificiale. Per produrre neve artificiale si utilizzano i cosiddetti cannoni da neve che trasformano l'acqua in neve artificiale e che fanno questo tipo di esercizio attraverso l'energia elettrica. Il pianeta Galileo ogni anno avvicina gli studenti toscani alla scienza con decine di iniziative nelle scuole di tutta la regione. Nacque nel 2004 e da allora ha ospitato tanti ricercatori e scienziati di grande fama. A Elena Cattaneo, pioniera delle nuove scoperte sulle cellule staminali e sulle malattie neurodegenerative e che qui ha tenuto una lezione magistrale dal titolo L'avventura della conoscenza, il presidente del Consiglio regionale consegna il premio Pianeta Galileo 2022. È un riconoscimento sicuramente al grande lavoro di ricerca che la senatrice Cattaneo porta avanti ormai da tanti tanti anni e che hanno visto l'Italia emergere nel mondo ma è anche un premio alle tante donne, alle tante ragazze e ai tanti ragazzi che si impegnano con fatica nel mondo della ricerca. Quando questa ricerca poi si trasforma in una risposta per migliorare la vita dei cittadini è qualcosa di bello e di enorme. Il progetto Galileo è qualcosa a cui io tengo molto perché parla alle ragazze e ai ragazzi, divulga scienza, conoscenza, permette a ciascuno di loro di poter crescere migliori e penso che questo sia qualcosa di enormemente bello e importante. Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti dell'Istituto Enrico e Sagnoletti di Sesto Fiorentino e anche una delegazione del Parlamento regionale degli studenti. Siamo veramente grati di avere questa occasione di poter parlare con la senatrice che sicuramente può fungere da insegnamento per noi ragazzi che ancora siamo in fieri del nostro percorso scolastico e che sicuramente lo vedremo come una grandissima occasione di consapevolezza riguardo a non soltanto in ambito scientifico ma proprio una strada futura da apprendere. La professoressa Cattaneo è ammirata da questi giovani ed è soddisfatta dell'impegno della Toscana per renderli protagonisti nella scienza e non solo. Dedica la prima parte della sua lezione a Rita Levi Montalcini e a Catalin Carico, pioniera dei nuovi vaccini. Parla anche di questo e delle scelte che le istituzioni sulle politiche sanitarie dovranno fare ancora una volta. Spero che ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che la scienza e il suo metodo sono la bussola migliore che possiamo avere per essere guidati nei mari in tempesta. La scienza altro non è che un metodo appunto per approfondire come stanno e capire come stanno le cose intorno a noi. Conquista pezzi di conoscenza per tutti noi, li mette a disposizione con dati, evidenze, prove visibili, pubbliche, verificabili, ripetibili. Sarebbe assurdo con questi bagagli di esperienze di cui disponiamo arrivare a decisioni che prescindono dai dati di fatto e dalle evidenze. Quindi spero che sempre più nelle decisioni legislative possano entrare le prove e le evidenze scientifiche. A Palazzo del Pegaso proseguono anche le presentazioni delle iniziative natalizie come Sapori di Natale a Fivizzano nel cuore della Lunigiana fino al 12 dicembre. Non solo cibo tipico e prelibato ma anche incontri, spettacoli, musica, giochi per bambini. Nello spazio espositivo del Piano Terra invece è in corso fino al 17 dicembre la mostra di Paolo Gennaioli. È un artista insolito, un pittore poeta in pratica, molto attivo nella scena artistica nazionale e internazionale con esposizioni a Roma, Toronto, Firenze e Washington Arezzo. Vi lasciamo con queste belle immagini dell'inaugurazione. Ci ritroviamo martedì per la seconda puntata speciale di Regionando. Sarà dedicata ad un bilancio dell'attività del Consiglio regionale da gennaio a luglio. La completeremo poi a fine anno con i mesi restanti, sempre su Telegram Ducato, sempre sul canale 15 in tutta la Toscana, ma attenzione alle 20.05 prima del Tg della sera.